Una voragine largo metro si è aperta improvvisamente venerdì sera in piazza Guido Monaco nel cuore del centro di Arezzo, all'altezza di una delle fermate degli autobus più frequentati in città, sotto gli occhi increduli dei passanti. Proprio sotto il peso di un pullman sarebbe infatti crollato il pezzo di asfalto. L'autobus al momento senza passeggeri che si trovava sopra è così rimasto bloccato con una ruota nella voragine. È successo poco dopo l'evento in uno degli snodi principali del traffico aretino. Al momento non si conoscono le cause del crollo, a cedere sarebbe stata una fognatura che conseguentemente si è portata dietro circa un metro quadrato di asfalto. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco che hanno liberato l'autobus e la polizia municipale per organizzare una circolazione alternativa. Ovviamente il cedimento dell'asfalto e il conseguente intervento hanno causato ieri sera pesantissime ripercussioni sul traffico. L'aria è stata transennata per precauzione, non ci sarebbe stato infatti il rischio di ulteriori cedimenti. Partiranno oggi le indagini per capire la causa del crollo ed avviare il ripristino, non escluso che possano aver contribuito al crollo anche le forti piogge di queste ore.